Allora ragazzi bentornati su Chuck Rock, episodio numero 4, spero che questo sia l'ultimo, perché penso che siamo all'ultimo livello, eh. Se ricordate siamo sulle montagne innevate, innevate. No, in realtà siamo ancora nelle caverne innevate, perché devo rifare quel breve livello delle caverne, andiamo a farlo. Ecco, già mi sono beccato una mazzata. Sì, se riuscivo a non farmi colpì, bene, bene. Ho preso pure la cozza del ca... L'ho presa la cozza, eh. Allora, qua il gioco comincia a farsi un po' impegnativo, perché all'inizio è molto facile, nei primi livelli, eh. Ma forse dovrei andare qua? Sì, l'ho preso, l'ho preso! Grande, che mossa! No, mancavo tutti, ho mancato tutti! Sì, se riuscivano a farmi colpì, grande, grande. Andiamo all'uscita! Sì, 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 grande, grande mossa! Ok. Salvo qui! Attenti, che lì c'è un dinosaurio, quello che spara le palle morta... Ma che ca... Dei morì, te! Pure te, devi morì! Mortacci vostra! No! Eh, sto sbagliato. No! C'è pochissima energia, ragazzi, l'ho rovinato. Guardate, si è morto. Ricominciamo, ricarichiamo. C'è pochissima energia. No! 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 Dai, sì, sì, grande, sono andato bene, sono andato bene! Nooo, ho lanciato quella pietra su! No, ma perché mi sei caduto addosso, stronzissimo essere! Sono andato male adesso, eh? Nooo, ho mancato! Cuore, dammi il cuore! Bene! Sì! Sì, tengo un colpo! Grande! Qua come faccio? Eh, questo torna indietro! Nooo, ma vaffan! Oh, quelli che lanciano le palle di neve mi stanno antipatici! Maledetti! Sì, grande! Nooo, mi spara! M'ha sparato! Oh, grande, tutta energia, tutta energia! Allora, qui io salverei, eh, qui io salverei! Ok! No! Guardate! Ho fatto bene a salvare perché mi hanno gonfiato! Nooo, ma perché non mori? Ah! Ma devi morire! C'è pochissima energia, ragazzi, ho rovinato! Ok... Nooo, c'era quello nascosto lì! Maledetto! Nooo, c'è pochissima energia! E' un livello grande! F5 salviamo! Guardate quel dinosauro ghiacciato là sotto! Che faccia che c'ha! Nooo, come cacchio? C'ho tutta energia, sono morto così! Aspetta, vedete se era tutta... No, era poca, ne era tutta! Arriva! Vabbè! Qua la vedo durissima, eh! Sì, ma là sotto c'è un cuore! Aspetta, io non mi posso far... Non mi posso far buggerà così, raga! Aspettate un attimo! Non mi posso far buggerà così, perché lì sotto c'è un cuore! Io quel cuore lo devo prendere e mi devo mantenere quella vita extra che c'ho, perché se vado a zero vita la cosa diventa veramente problematica! Quindi proviamo! Sì! 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 Dammi il cuore! Sì! 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 Grande, grande! E qui salviamo alla grande! Ma quello da dove è spuntato? Ti ho andato su? Ma guarda te, oh! Altro cuore! Sì! Tradimento! Ok, mi spuda via! Bene! La roccia mi ha protetto dalle stalattite, eh! Ma vaffanculo! Alla giù! Alla giù! Io cosa che faccio? Io vado su! Mortacci tuo! Nooo! Mi hanno ammazzato! Non ci posso credere! Me la devo tenere qua la vita! Niente! Ricarichiamo! Ricarico qua, eh! Allora, sopra in alto a sinistra c'è un altro cuore, quindi attenzione, eh! Eh, ma so come prima! Aspetta, vediamo un attimo! Sì, sto uguale! Sto uguale! Là perché c'è una stalattite là, vedete? Eccola! Ah! No, mi ha preso! Mi ha preso! Niente! Sono sempre uguale a prima, eh! Ma vaffanculo! È un bel l'escovo! È un bel l'escovo! È l'escovo! È un bel l'escovo! È un bel palco! Sì! Beccadute 2! Maledetti! Sì! 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 Ma qua... Qua si ghiaccia qua su! Neo! Sono quasi morto, sono quasi morto! Sono quasi morto! Sì! C'ho fatta! Boss finale! No, non è il boss finale questo! Però c'ho zero energia, regà, sono rovinato! Perché la musica accelera? Qua devo salvare per forza anche se so che morirò! Sono morto! Sì! L'ho ammazzato così! Così a buffo! Andiamo! Mi ha dato una vita bonus! Questo è il livello finale, regà! Livello finale! Livello finale! Questo qui è il cimitero dei dinosauri! Sì! Ebbene sì! Perché a quanto pare Chuck Rock è sopravvissuto all'era glaciale! E ci stanno tutti i dinosauri morti in giro! È sopravvissuto all'era glaciale! Guarda! C'è un dinosauro mummia scheletro! Managgia a te! È diventato angelo quello! Sì! No! È diventato diavolo! Portacci sua! È diventato diavolo ma ammazzato! Ma è vivo! Ma fingete se è morto questo, è vivo, apri l'occhio! Ma c'è, c'è un... ci sono i denti di Dracula là, ma che è? Sì, la lingua, come il serpente di livello dei caverne. Ah, quello è diventato diavolo perché avete visto, c'è la faccia cattiva. Allora, aspetta, da quanto ho capito, si può predire se un dinosauro morto poi diventa angelo o diavolo? Perché quelli con la faccia cattiva diventano diavoli. Ah, vaffanculo! Scheletrone! Diavolo, diavolo! Ma questo aveva la faccia buona, perché è diventato diavolo? Allora, non è così facile capire chi è buono e chi è cattivo, come nella realtà! No, pure questo era cattivo, portacci su A. Che mori? Nooo, sono morti! Niente ragazzi, la puntata finisce qui. Noi ci riproveremo nel prossimo episodio a tornare nel cimitero di dinosauri. per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio di Chuck Rock, ciao ragazzi alla prossima